allora cari amici di Fiespodismo Informato buon sabato a tutti ben ritrovati da Andrea Gusella e da Davide Maggiolo che come sempre ci supporta alla regia fine settimana che diciamo così ci offre alcune iniziative fuori provincia in particolare ci spostiamo in Rossano Veneto per la strada Rossano evento di 47 12 chilometri un evento che è giunto alla sua bella data della trentasettesima edizione la partenza e l'arrivo sono da Villa Caffo a Rossano Veneto e con ritrovo e partenza dalle ore 8 alle ore 9 e 30 il diciamo così questo è sicuramente il primo degli eventi che vi andiamo a segnalare così come andiamo a parlare della in provincia di Verona invece a Roverchiara la peste sull'Adige di 6 12 e 16 chilometri con partenza dalle ore 7 e 30 alle ore 9 si tratta di un evento anche in questo caso giunto alla settima edizione quindi un evento abbastanza recente il ritrovo è dalla palestra delle scuole medie in piazza Unità d'Italia appunto a Roverchiara non abbiamo altri 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 eventi da segnalare per quanto riguarda questa settimana mentre chiaramente ci stiamo preparando a un mese di dicembre piuttosto intenso e con parecchie nuove iniziative che si che si stanno venendo a a proporre in particolare per quanto riguarda le camminate dei babbie natale che sicuramente avranno capolino durante il durante tutto il mese diciamo che opportunamente vale appena ricordare che domenica 4 dicembre l'appuntamento con quattro passi fra zucchero e farina a Ponte Longo il ritorno all'appuntamento con i suoi percorsi 6 12 18 chilometri e con l'interessantissimo come sempre passaggio all'interno dello zuccherificio di Ponte Longo appunto ricordiamo che l'evento si svolge in concomitanza con la festa della dolcezza che si che parte sostanzialmente da sant'andrea quindi dal 30 novembre fino alla domenica successiva quindi anche una bella occasione per tutti noi anche oltre a per scoprire i posti ma anche per vedere questa diciamo così delle iniziative che sono decisamente belle ricordo l'esposizione delle ad esempio delle sculture in zucchero e tante altre belle cose quindi un appuntamento al quale non mancare sicuramente domenica prossima a Ponte Longo organizzazione della Proloco di Ponte Longo. Per quanto riguarda le attività della scorsa settimana vale la pena ricordare che la Coilupi è stata decisamente una manifestazione che ha colto di sorpresa gli organizzatori perché ha portato oltre mille partecipanti a San Martino di Lupari e con un'ottima tra le altre cose riscontro e complimenti da parte dei partecipanti per la scelta dei percorsi che sapevamo essere veramente degni di nota e veramente molto belli quindi complimenti al tutto il gruppo appunto di Uniti per Campetto che ha organizzato l'evento e chiaramente al comune di San Martino di Lupari in particolare voglio anche ricordare il gran lavoro fatto dalla amica Stefania Barron questa settimana come sempre ci si attendono tutti gli appuntamenti settimanali di diciamo di allenamento quindi cominciamo subito con il martedì con gli amici di Piove di Sacco con il loro training si ritrovano vicino al Duomo di Piove di Sacco alle ore 20 ricordo poi che a Campo San Pierese in particolare a Villa Campello a Campo San Piero Mivao vado di Corsa e ritrovo anche questo 19.45 a Campo San Piero con il gruppo Mivao e poi come sempre martedì Vigonza, Vigoran, Corera Vigonza gli amici del gruppo Alba, Vigoran stanno lavorando per la loro manifestazione che finalmente dopo due anni di interruzione torna il 6 gennaio quindi c'è un parecchio fermento, parecchie attività anche dal punto di vista dei nostri amici di gruppo Alba Vigoran il mercoledì sera come sempre cammina e corri per il tuo comune a San Giorgio delle Pertiche ritrovo presso gli impianti sportivi di San Giorgio delle Pertiche e per quanto riguarda Montagnana, Corrile Mura, Corri ha il proprio appuntamento il proprio ritrovo in via Trento e Trieste a Montagnana con appunto la uscita del mercoledì e Palloran invece questa settimana mercoledì ci dà appuntamento in via Eulero a Brusegana presso la sede dei Sonai Runners per un allenamento lungo il percorso dei muoviti con i Sonai quindi circa 6 chilometri e mezzo per i camminatori e 11 chilometri per i runner ci spostiamo poi al giovedì sera, Corri per Chose Marina a Chiodjamp ci si ritrova in Piazza Europa, Piazza Europa ritrova alle 19.19.30 la partenza percorsi di circa 10 chilometri per quanto riguarda appunto i cavalli marini per quanto riguarda l'appuntamento della Corri per Padova la prossima settimana l'appuntamento non abbiamo ancora disposizione in percorso però sicuramente ci troveremo la settimana prossima al giovedì sera con la prossima tappa quella di questa settimana, lo ricordiamo, eravamo in Piazza della Stazione oltre a migliaio i partecipanti restando sempre in tema di giovedì ricordiamo l'allenamento organizzato dagli amici del gruppo United con ritrovo sui Colli Ugani e uscita sostanzialmente organizzata il giovedì sera attraverso la messaggistica per quanto riguarda le nostre iniziative direi che non abbiamo altro da segnalarvi per questa settimana chiaramente vi diamo appuntamento per la settimana prossima con FIAS Podismo Informato da Andrea Gusella e da Davide Maggiolo grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti